Ciao dall'Italia, ciao da casa, vuoi vi? Io vorrei che la parola notizia fosse naturale, normale, così come la parola pizza, come la parola pagina, come la parola carta. Stavo pensando a parole femminili. La notizia, le notizie. Prima ancora di capire che cos'è la notizia e che cos'è una notizia, beh, in italiano c'è una cosa che suona come notizia, nome femminile singolare, la notizia, che ha un suo plurale che, seguendo la regola classica dei nomi femminili, ha la desinenza in E. La notizia singolare, femminile, desinenza in A, come il libro di Carlo Dossi, le notizie. Ho sentito una notizia al telegiornale, ho sentito tante notizie al telegiornale. Questa parola non genera nessun tipo di difficoltà se non si conoscono altre lingue straniere. Potrebbero nascere delle difficoltà se si conoscessero altre lingue straniere, ma tu sei di madrelingua italiana e non conosci nessun'altra lingua straniera. Al telegiornale tu ascolti e vedi tante notizie. Sul giornale tu leggi tante notizie. Poi magari ti interessa una notizia in particolare. Una notizia, tante notizie. Che cos'è una notizia però? La notizia è un fatto, è qualcosa che accade, qualcosa di rilevante, qualcosa di importante per un certo numero di persone. Poi evidentemente per alcuni quel fatto che accade, quella notizia, può essere di fondamentale importanza, può cambiare la vita e per altre persone quella stessa notizia è del tutto ininfluente. Però la notizia è quello che accade, è un fatto che accade e che per tante persone, per un paese, è ritenuto importante. Volete dire qualcosa sulla notizia? Poi, certamente. Adesso io mi occupo di notizie dal punto di vista giornalistico. Una notizia letta sul giornale, sui siti di informazione. Parliamo di quella notizia, poi ci sono le notizie di reato. Beh, ma comunque la notizia di reato fa sempre riferimento a qualcosa che accade. Ha un'informazione rilevante dal punto di vista della giurisprudenza, in quest'ultimo caso. Però è qualcosa che accade. Se qualcosa non è importante, non è una notizia. Si usa proprio questa espressione quando si vuole dire che quella cosa non è degna di interesse, che i giornalisti non dovrebbero occuparsi di quella cosa. E quando si leggono alcune cose sul giornale di una banalità estrema e di nessuna importanza, se non per le persone strettamente coinvolte in quel fatto, beh, si può dire che quella cosa non è una notizia. Perché i giornalisti parlano di quella cosa? Perché in televisione si sente di quel fatto? Non è una notizia. E in questa forma negativa è ancora più evidente il significato di notizia singolare, notizie plurale, come casa singolare, case plurale, la settimana singolare, le settimane plurale. Al giorno d'oggi è di moda l'anglicismo news. Ed è proprio news che crea poi tanti conflitti tra singolare e plurale. Perché crea conflitti tra singolare e plurale nel momento in cui una persona di madrelingua inglese, che non vuole usare gli anglicismi in italiano, giustamente, cerca di dire notizia e ha un po' di difficoltà nell'uso del singolare e l'uso del plurale. Perché questa parola è particolare nella lingua inglese. In italiano non genera nessun tipo di anomalia. Grazie Yoko per avermi ricordato la news, le news, e per aver ricordato il fatto che ormai si parla, si usa sempre più spesso, certamente, l'anglicismo news al plurale per riferirsi alle notizie. Ecco le news. Anche nella vita di tutti i giorni sento italiani che dicono hai news, hai news su questa cosa, hai novità. Ecco, nell'elemento della notizia c'è anche la novità, c'è qualcosa che accade. Quindi è il racconto di un fatto, di un fatto nuovo che accade. Bene, possiamo recuperare dall'inglese questo elemento non trascurabile. La notizia è qualcosa di nuovo che accade in un determinato momento e che viene raccontata, perché ha delle conseguenze per la vita di molte persone. conseguenze anche solo per il fatto di un'informazione. La notizia. C'è l'anglicismo news e poi, ancora più dilagante e ancora più fastidioso, c'è l'anglicismo fake news. Qualcuno ha cercato di creare una specificità e una giustificazione per questo anglicismo fake news, per riferirsi, secondo alcuni, a quel meccanismo perverso che è proprio delle reti sociali, quel meccanismo perverso di diffusione velocissima di notizie false, notizie false, notizie false, notizie false, che proprio sulle reti sociali, sui siti di messaggistica istantanea, viaggiano a una velocità supersonica e sono incontrollabili e ingestibili, così ci sono miliardi di persone che sono raggiunte da queste notizie false che creano conseguenze vere, conseguenze nefaste vere, perché la bugia, la bugia, la bugia, la bugia viene creduta e viene presa come vera ed è difficile poi ristabilire la verità. Ecco, io prima di tutto, anche per queste notizie false che circolano su internet, non sento il bisogno di dire fake news. Fake news è diventato strafamoso in Italia quando Trump, con la potenza di fuoco della comunicazione di Trump, ha cominciato a bollare come fake news le cose che, le notizie, le notizie, le notizie pubblicate sui giornali americani contro di lui o le cose dette dai suoi avversari politici contro di lui e c'è stato un periodo in cui sentivamo sempre fake news, fake news, fake news e con questa sua potenza di fuoco comunicativa è arrivato qua in Italia questo anglicismo che magari circolava già, ma non con questa potenza. Ma non è vero che fake news si usa solo per queste bugie che circolano su internet, perché adesso tutti qua in Italia non dicono più bugie, non dicono più balle o balla o bugia, ma dicono questa è una fake news, questa è una fake news o queste sono fake news. Vabbè, non sento il bisogno di dire fake news, si dice fake news solo per essere fighi, per essere moderni. Quando qualcosa succede, ogni due o tre, mettiamo per esempio la corruzione dei politici, smette di essere notizia. Esattamente, bravo. Nell'elemento di notizia c'è la straordinarietà. Se qualcosa si ripete, per esempio, il Torino che perde sempre, quando il Torino perde, vabbè, questa non è una notizia. perché non c'è nessuna novità. A proposito di novità, non c'è nessuna novità. Grazie Juanco per avermi ricordato questa cosa che volevo dire. Si dice proprio così, non è una notizia. Quindi si dice che qualcosa non è una notizia quando non è rilevante o quando non c'è nessuna novità rispetto a quello che succedeva prima di quel fatto. Si può dire in maniera anche ironica, sarcastica o polemica. Non è una notizia. Che notizia è? È la normalità. Se qualcosa è nel novero, nel recinto delle cose normali, non è una notizia. Non è una notizia. Però questo si dice certamente la corruzione dei politici. Certamente il politico, un politico corrotto fa sempre notizia. fa sempre notizia. Bella questa locuzione, fare notizia. Però è meno interessante, genera meno interesse perché è un evento atteso. Tragicamente i femminicidi in Italia tendono a non fare più notizia. Fare notizia. Fare senza articolo con il nome singolare. non fanno più notizia, non generano più nessuno scalpore o generano uno scalpore inferiore nella maggior parte dei casi perché rientra nella tragica, vergognosa, scandalosa normalità. E poi c'è ancora qualcuno che dice che insomma tutta questa agitazione per i femminicidi. Ma che ci sarà mai? Un tempo succedevano più cose di questo tipo. Penso che questo argomento sulle notizie, dice Patricia, si debba al fatto di avere 24 ore di tv. Bisogna riempire il tempo ed evidentemente si parla di banalità. Sì, Patricia, è vero, però si parla di banalità non perché non ci siano cose serie di cui parlare, ma perché si sceglie di parlare di banalità. Avevo fatto qualche settimana fa l'esempio dei fatti tragici di Rosario, Argentina. Qua non se ne è parlato, almeno nelle prime pagine dei giornali. Nelle prime pagine dei giornali in Italia si parlava di sciocchezze italiane e anche non italiane. Quindi è una precisa scelta quella di occuparsi di una cosa o di un'altra cosa. A volte le informazioni non fanno notizia perché si vuole, perché non sono date e perché si pensa che non siano interessanti, perché non generano click. Allora l'informazione non è più svolta, non è più fatta in nome della consapevolezza, della diffusione dei fatti, di una riflessione per stimolare la riflessione sui fatti importanti del mondo, ma si cerca più il fatto sensazionale. Fake news è troppo lungo, da noi si è accorciato in fake, si usa anche newsletter. Il fake qua invece in italiano è una cosa falsa, è una cosa contraffatta, è una cosa fake, oppure anche una persona può essere un fake se è falso, ma un fake è una cosa falsa, una persona falsa, è una cosa che non è come quella, come l'originale, è un fake. Questa cosa è fake, potrebbe essere anche bufala, esattamente. In spagnolo si dice cioccolato per la notizia, bello. Fake news è un'espressione abusata, un tempo era utile, ma ora viene spesso utilizzato dai politici come un modo per evitare domande difficili, esatto, balle, 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 bugie, bufale, abbiamo così tante espressioni, però alla fine arriva fake news. Esattamente, è esattamente quello che volevo dire, ci sono tante cose importanti delle quali parlare e informare. Sì, ma proprio adesso che abbiamo 24 ore di notizie non si parla delle cose importanti. Allora c'è qualcuno che sceglie che cos'è una notizia e che cosa non è una notizia. Cioè un fatto non è una notizia di per sé, un fatto è una notizia nel momento in cui qualcuno decide che sia una notizia quella cosa, altrimenti se non si parla di quella cosa, quella cosa pur importante, pur doverosa da raccontare, non viene non viene trattata ed è terribile. Patrizia ma è incredibile la prima volta ho sentito l'espressione fake news è stata dalla bocca di eh vedi ecco vedi tu Patrizia ci stai dando un'informa per me è stato chiaro è stata chiara l'origine di di questo prestito di questo cosiddetto prestito arrivava da Trump perché i telegiornali riportavano proprio fake news e lui condivideva su Twitter quando si chiamava Twitter condivideva una notizia e scriveva fake news e quindi noi abbiamo imparato a usare fake news per questo motivo ma adesso la usano tutti i politici italiani è una fake news è una fake news anche per cose che non centrano con l'informazione non centrano è una fake news la prima volta ho sentito l'espressione fake news è stata dalla bocca di Trump ma penso un po' ma penso un po' che ci sono